La mia opinione in merito ai Rooki Ducati in MotoGP e l'ho già espressa, Rooki Ducati che poi corrispondono con i Rooki in MotoGP perché sono tutti e tre Ducati, anche oggi che è sabato e stanno correndo a Portimao, Bastianini è indietro rispetto a Marini, fa una fatica e Martini si è fatto poverino molto male fratturandosi Malleolo, Manu e insomma altre cose, insomma il trauma cranico eccetera, quindi invece Luca Marini è andato molto bene e mi pare sia settimo o ottavo insomma. La mia opinione è questa, Marini non può essere comparato a Bastianini e Martini né dal punto di vista del talento, delle capacità, né dal punto di vista del percorso né di quello dei risultati. I tre non sono sullo stesso piano neanche un po'. Martini è un talento più puro, meno ragionato, Bastianini è un talento ragionato, Marini è un'altra cosa, adesso lo vediamo che cos'è. Un talento grosso Marini ce l'ha e non è solo quello di essere uno dei piloti più raccomandati della storia del moto mondiale, perché nessuno è stato mai spinto e supportato per un lasso di tempo così lungo, così prolungato, fino a trovare i risultati che gli consentissero di essere accettabili nella categoria superiore. Quindi per trovare quei risultati e quelle capacità che gli consentissero di andare in MotoGP dalla Moto2. Cioè di campioni bruciati, ma campioni veri che avevano vinto dei mondiali e delle gare, delle pole, anzitempo, ce ne sono stati veramente moltissimi. Rabatto uno di questi, insomma, nessuno di questi qui è stato consentito di prendersi tutto quel tempo per capire come si fanno le cose, volta per volta, anno per anno, anche senza portare a casa niente. Cioè, ma prima di dire che Marini ha solo questo talento qui, bisogna fare qualche analisi però. La verità è che Luca Marini, proprio dal suo non talento, ha tirato fuori il suo punto di forza. Cioè, con una intelligenza analitica che ha, che, diciamo, non lo fa neanche sembrare un pilota, è riflessivo, è molto razionale, è una costanza che ha, non ha guardato praticamente in faccia a nessun tipo di fallimento, mancanza, eccetera. Quindi Marini si è applicato e ammartellato incessantemente e senza soluzioni di continuità, fino a mettersi alla pari con tanti altri più bravi di lui e anche superando tanti altri più bravi di lui. È evidente. Sicuramente gli è stata aperta una finestra temporale gigantesca per fare tutto quello che voleva provare a fare, però la riuscita non è scontata. La stampa amica è intimorita dal blasone familiare, dagli interessi, dalle connivenze, dai conflitti di interessi. Lo elogia e lo difende a 360 gradi, sempre. Lo comunicano unitamente a Martín e a Bastianini, con cui non ha niente a che fare. È un altro atteggiamento in più questo, cioè è un alleggerimento in più. Gli sponsor sono di casa sua, il team è di famiglia, è il suo, quindi l'organizzazione gira tutto intorno a lui alle ore di professionalità, investimenti, attenzione, eccetera, e non lo discute mai. E uno che va a dormire tranquillo è che si sveglia tranquillo. Questo nel motociclismo ha un prezzo elevatissimo. Parliamo di un motociclismo, quello recente, molto molto frettoloso, con un burnout, con un... cioè i piloti che vengono bruciati in maniera molto veloce. E quindi un bene impagabile questo però non resta il fatto che Marini c'è. Quindi voglio dire non ha dei problemi e fa i suoi passetti. Quindi esiste la possibilità che la consapevolezza di non essere forte lo renda paradossalmente più forte di tanti altri. Quando altri si arrovellano perché non riescono a fare delle cose che il loro talento li dovrebbe garantire, Marini cammina tranquillo. Quando altri hanno aspettative di un certo tipo, Marini viaggia tranquillo. Quando altri... dove altri rischiano di perdere una sella, Marini ha la sua con il nome inciso al laser. E chi lo caccia, Marini? Se altri devono stringere i tempi, Luca li può far scorrere aspettando le occasioni in cui dire la sua e marcare il suo punto. È una specie di casinò contro giocatore. Cioè il casinò ha tutto il tempo per vincere. Anche questa gestione delle circostanze però è una dote. Cioè quando hai il talento, ma anche la costanza, la tranquillità, la serenità, la pazienza, le chance, il budget, sei un campione vero. Tutti i migliori campioni hanno avuto il supporto giusto. Campioni che non hanno avuto supporto non esistono. Ma quando ti manca uno di questi ingredienti qua, forse quello a cui puoi rinunciare se sei tranquillo con tutto il resto è proprio il talento puro. Cioè l'elemento più pericoloso, più autodistruttivo del pilota. Quindi è un'arma a doppio taglio. E quindi è così che funziona. La fortuna di Luca Marini, non comparabile con gli altri due ruchi, Martín e Bastianini è quella di non essere allo stesso livello dal punto di vista del talento, ma di avere i soldi e, come posso dire, la costanza di lavorare duro su un risultato sapendo di avere quella costanza e supporto come arma vincente. Qualcuno riuscirà a vedere questo video come un attacco nei confronti di Luca Marini, però anche questa volta non c'è hating che tenga. parlano i risultati. Gli albi, le classifiche, i cronometri e tutto il resto. E poi, per darmi ragioni o meno rispetto a quello che sto dicendo, parlerà il tempo e vedremo se vincerà il talento purissimo di Jorge Martín, il talento impaziente, il talento semiragionato di bestia Bastianini o il non talento supportato dalla costanza, dalla razionalità, dall'intelligenza e dai milioni di euro di Marini. Vedetela come volete, ma fino adesso le cose hanno avuto l'origine e il corso che ho detto io. Dopodiché vedremo. Il video rimane qua. Iscrivetevi al canale, fate anche le visualizzazioni. Ciao da Mr. Helmet.